Dottor Giuseppe Greco, direttore regionale dell'Inps, che nel corso del suo intervento ha spiegato che non ci siano più morti sul lavoro, che quantomeno diminuiscano in una regione che lo scorso anno ha registrato più morti bianche rispetto alle altre regioni d'Italia. È un auspicio che credo sia di tutti, anche se dicevo risulta essere quasi un'utopia, però immaginavo mentre sentivo leggere i nominativi dei caduti sul lavoro in questa regione negli ultimi dieci anni, immaginavo di trovarmi in una situazione in cui ci potesse essere la difficoltà a organizzare una giornata come questa per assenza di nominativi da elencare. Ovviamente questo ribadisco è solo poco più di un auspicio, però quello che si può fare invece più concretamente è sicuramente ridurli, ridurre tantissimo tutti gli incidenti sul lavoro, siano essi mortali o meno, con investimenti mirati, a volte nemmeno eccessivamente significativi, perché io insisto nel dire che tante volte basta la volontà di fare e si riescono a trovare soluzioni anche relativamente poco costose, che però innalzano i livelli di sicurezza in maniera significativa e quindi ridurre. Anche perché i costi per la sicurezza non sono costi, ma è un investimento che fa l'azienda. Mi è piaciuto molto l'assessore Panini quando ha ribadito un concetto ormai acclarato che non si tratta di costi, ma di investimenti, di investimenti volti a rendere più salubre l'ambiente di lavoro e far sì che ognuno possa svolgere la propria attività lavorativa con dei canoni di sicurezza più elevati e quindi con una serenità maggiore.